musica 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 ma tutti ragazzi sono sempre io e oggi siamo tornati con la meme compilation meme da guardare a capodanno come avete letto dal titolo e spero che questa volta youtube non mi chiuda questo video perchè a youtube non piacciono le meme drop the drop no shit abbiamo iniziato alla grande musica top questo merita sempre musica 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 best intro del re leone se era così il film avrebbe avuto molti più incassi che c'è un pesce che mangia no no eh volevi mi sa che finisce male non la vedo bene avevo detto io cosa termine ho visto magari succede questo nella realtà è l'amato perchè Obama basta questo pesce e niente basta questo è un mito ecco lo poteva mancare Joker e niente Joker è finito male addio signor Joker che c'è ma perché no una vicela spaziale ok non sapevo giocassi a fortnite so I let my girlfriend borrow my airpods and when she gave them back they look like this so I immediately did what any reasonable person would do cosa dia mille ha fatto se l'hai mangiato gli airpods did what any reasonable person would do erano pieni di cerume che schifo e niente finisce male perchè c'è una pokeball abbiamo trovato il bambino che ha fatto il verso di Roblox ma che schifo gli ha defecato in faccia perchè Thanos no CJ finita male bella questa intervista con un gorilla oh stinky poop ha 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 poopies funny poopies ma che che sto vedendo poop poop funny woo ha ha no 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 you cannot joke about that yeah that's not funny basta con sto tipo che ca... ass fuck peggio di me sto tipo big world big world big world big world big world big world ok è sparito l'albero a bust sempre luce in mezzo oh youtube rewind oh youtube rewind ma che che e niente oh un piccione mi sa che muore il piccione come l'ho detto perchè ben ten ho paura è diventato un gabinetto cosa sta succedendo lì dietro perchè c'è un topolino che si fa win the pooh family friendly family friendly mamma mia ahahah ma dove te la vedo nooo my dick oh dio happy wheels è morto come scende lui le scade non la scende nessuno oh dio ma non ricordo questa missione get me close cj i'm about to pop these food roll up on them cj so i can get a shot best crossover ora ho capito perchè sarà il best film dell'anno sony altro che family friendly che non finisce bene perchè ha 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 meri christmas ha 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 y'all really be afraid to moan in the girls ears but i'm out here like ma che che bene bene finita male adoro quando urlano perchè piangono piangono su un video di un personaggio di spongebob che viene ucciso da una pressa idraulica oddio sta meme ah non sta giocando a scacchi imfissare almost basta adoro sto tipo eh e niente un gatta assassino basta la meme del gatto l'ho visto ovunque ma che che Ok Ok dovrebbe far ridere quel gatto Non la vedo bene Ho detto io Ma che che E avrei fatto peggio Certo L'FBI ti spia delle telecamere del tuo telefono Perchè? Ma che cavolo ho visto Oddio Finale più bello di sempre Mancava quella meme Ok Detto ciò Direi di chiudere qua Questo video Nonsense Spero che vi sia piaciuto Se si lascia il like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram E su altri social Link in descrizione E niente Noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.